Buongiorno a tutti, oggi parliamo dell'abito sartoriale. I nostri capi vengono costruiti con grande attenzione. Gente moda è da 53 che fa abiti, sono un po' il nostro fiore all'occhiello, la cosa per cui siamo forse anche più conosciuti. Allora, innanzitutto partiamo dal tessuto. I nostri tessuti sono suddivisi in tessuti estivi, tessuti invernali, a seconda del peso e a seconda dei colori, quindi ci sono quelli più lavorati, quelli più semplici, a seconda delle varie esigenze del cliente. Quello che ci teniamo a dire è che sono sempre tessuti di grande qualità, quindi l'abito permette di essere molto durevole e riportabile nel tempo. Per quanto riguarda le vestibilità, sviluppiamo il progetto dell'abito in tante taglie e tante vestibilità. Cosa vuol dire? Abbiamo già in essere pronti abiti che vanno dalla taglia 44 super slim fino ad arrivare alle taglie extra conformate, fino ad arrivare addirittura all'83. Sono taglie quindi molto ampie, quindi una ampia gamma taglie e ampia vestibilità. Cosa vuol dire? Parliamo sia della vestibilità slim e moderna adatta ai fisici regolari e snelli, sia vestibilità lunghe ed estralunghe adatte ai fisici che hanno bisogno di lunghezza sia nelle maniche sia nella lunghezza del busto, sia vestibilità conformate e corte o addirittura anche extra corte, adatte quindi anche a chi ha bisogno di una giacca un po' più corta oppure un po' più comoda. Quello che ci teniamo a dire è che in agente moda è disponibile già sul pronto un vastissimo assortimento di colori e di taglie, quindi uno non se lo deve immaginare, ma il cliente se lo può provare e capire, confrontare in base a quello che è la sua esercizità. Ovviamente anche per quanto riguarda i prezzi, c'è un'ampia gamma di prezzi, tale per cui possiamo soddisfare sia chi cerca un abito, ha davvero un prezzo molto interessante, sia chi cerca invece qualcosa di un pochino più ricercato e a livello di qualitativo è differente, in modo da soddisfare anche la gamma di clientela esigente. Per esempio possiamo parlare di questo abito qua. Allora, viene costruito come, bene o male, che questo un po' vale per un po' tutti gli abiti, una costruzione con le asole, con i bottoni, solitamente ne mettiamo quattro di bottoni sulla manica, una costruzione a monopetto che può essere, come in questo caso, a due bottoni, oppure qualche volta può essere a tre oppure un bottone. Due pattine sul davanti e un taschino tagliato e la parte sul retro che presenta, in questo caso, due spacchi. Poi, in base ad alcune esigenze di livello di stile che decidono i nostri sarti, possiamo avere o il singolo spacco oppure lo spacco chiuso, quindi senza spacco. all'interno della giacca c'è la referenza del tessuto, le tasche che portano i documenti, nel caso la porta penna o la porta cellulare, e sotto alla giacca abbiamo il pantalone. Ora, i nostri pantaloni, come potete vedere già nei video dedicati al pantalone, sono costruiti o con le pants o senza pants, con le due tasche america e dietro le due tasche a filetto. Ovviamente i passanti, ecco, una cosa importante, il fondo dei pantaloni, che può essere o, come in questo caso, moderno, quindi né troppo stretto né troppo largo, poi nella vestibilità slim è molto stretto, nella vestibilità comoda perdona in qualche punto. Qui non inventiamo niente, nel senso che, come vedete, l'assorbimento è molto ampio, e quindi possiamo già, come dicevo prima, soddisfare tantissime esigenze diverse. Abbiamo ampie gambe di colori, ampie gambe di tipologie di tessuto, di prezzi, e insieme possiamo trovare l'abito che necessitate. Sia in caso che vogliamo intenderci per corrispondenza, sia che veniti direttamente in sede. Noi siamo a Barbata, in Bielanato da Vinci, 221, appena vicino al casello di Romano della Prebemi La35. Siamo in centro nella Lombardia, pochi chilometri da Milano, da Bergamo, da Brescia e da Crema e Cremona. Un'altra cosa che vi voglio dire, molto importante, è che nel caso che il cliente abbia particolari esigenze, o a livello di colorazione, o a livello di vestibilità, abbiamo delle cose molto interessanti, come per esempio la possibilità di fare il mix and match, quindi di prendere su determinati tessuti il pantalone di una taglia e il giacca di un'altra misura e quindi unire due tagli differenti e mantenere, attenzione, prezzi molto interessanti, oppure la possibilità di sviluppare completamente da zero un abito su misura. E qui per esempio, mi aiuto facendovi vedere un po' quella che è la nostra nuova collezione, come vedete abbiamo suddiviso sia in tessuti lavorati e disegnati, sia in tessuti tinte unite, oppure tessuti da giacca o tessuti da pantalone, ci sono tanti diversi dannifici che ci sono un po', sono i nostri partner con cui costruiamo e ci danno la materia prima, e possiamo assolutamente scegliere, per modo di dire questo qui è un tessuto del vitale Barberis canonico, possiamo creare con il cliente ovviamente prendendo le misure a pelle, una cosa che in questo momento ancora non esiste perché è il suo abito, la sua giacca completamente personalizzata. Questo servizio ci mette in condizione in sole quattro settimane di vestire completamente da zero qualsiasi tipo di fisicità. Non è detto che serva perché in realtà con il nostro assortimento possiamo veramente davvero soddisfare tutte le necessità, però è un servizio in più che possiamo dare. Quindi vi aspetto in azienda, nel caso che vogliate comprare per corrispondenza un abito di pret-à-porter io vi suggerisco di fissare un appuntamento per venire in azienda oppure di contattarci attraverso il recapito telefonico, il numero whatsapp, l'email e sarà nostra cura insomma aiutarvi per non sbagliare. A presto, arrivederci.